ella parlava con qualche pausa aveva la voce così insinuante che quasi dava la sensazione di una carezza carnale e aveva quello sguardo involontariamente amoroso e voluttuoso che torba tutti gli uomini ne accente d'improvviso la brama chi era mai era uno spirito senza equilibrio in un corpo voluttario a similitudine di tutte le creature avide di piacere ella aveva per fondamento del suo essere morale uno smisurato egoismo ella portava quindi nella commedia umana elementi pericolosissimi ed era occasione di ruina e di disordine più che se ella facesse pubblica professione di impudicizia ora che è seduta di fronte a noi vi dirò qualcosa sulla sua biografia è la duchessa di scerni vedovo da poco ed è stata amante del giovane andrea i due si sono conosciuti nell'alta società romana sono molto simili entrambi amanti dell'arte della rarità della ricercatezza spregiudicati e opportunisti ma dei due elena è la più forte elena e andrea hanno avuto una storia d'amore breve ma intensa ad un certo punto elena va via da roma ritornando nella capitale solo dopo qualche anno la duchessa si è risposata con un ricco lord inglese hirtfield non certo per amore ma per mantenere quella giatezza economica e sociale che le permetterà ancora di vivere nel lusso ad elena piace giocare con i sentimenti e con le passioni degli uomini per attirare nuovamente andrea gli confessa di amarlo ancora ma i due non possono più sfogare la loro passione reciproca perché lei ornai è una donna sposata ma per elena questo è solo un gioco di possessione infatti intreccerà altre storie d'amore ma non con andrea grazie grazie grazie